Questo workshop si inserisce nell'ambito del PSR ma è solo una parte di quella che è la politica e la mission del nostro istituto di formazione Terina. È un istituto di formazione che punta, come dimostrano gli eventi che stiamo portando a termine, a dare consigli, a formare, a creare una cultura dell'innovazione e della consapevolezza che noi portiamo avanti in territori difficili come sono questi dove ci troviamo. Lavoriamo per questo a 360 gradi, lavoriamo sulla formazione, lavoriamo nel mondo delle professioni sanitarie, molto importante per noi è la parte della sicurezza sul lavoro nella quale siamo pionieri ormai da molti anni con collaborazione anche a livello nazionale con enti che si muovono in tutta Europa. Altrettanto importante per lo sviluppo del nostro territorio è la parte legata ai servizi per il lavoro. Volevo ricordare che Terina è un ente accreditato ai servizi per il lavoro dell'Ampal e della Regione Calabria e che dà la possibilità anche in questi territori che sono caratterizzati da una viabilità abbastanza difficile danno l'opportunità ai ragazzi di avere a portata di mano tutte quelle che sono le agevolazioni e le opportunità che il mondo del lavoro può offrire. Certi di portare avanti il vessillo dell'innovazione, della consulenza e dello spirito di iniziativa, vi saluto. Grazie